lo dicevo nel video precedente dicevo praticamente la juventus deve sempre arrivare all'ottantacinquesimo minuto con il doppio punteggio altrimenti la partita non te la fanno vincere il sistema si mette di traverso ma io sono convinto di quello che dico lo dico seriamente lo dico perché credo in quello che dico ve lo posso anche dimostrare quello che si è verificato in juventus cagliari è molto molto grave gravissimo ma anche il post partita sono i commenti perché la narrativa vergognosa scandalosa italiana poi altro po va a finire che la juventus stava rubando la partita ben trovati ben trovati buon inizio settimana a tutti quanti voi nicola è un allenatore che a me piace molto molto piace nicola lo ritengo uno dei migliori allenatori italiani per come imposta per come motiva per come ha il senso della 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 squadra è torinese ricordo che durante il periodo di calciopoli è torinese e torinista e ricordo come nel periodo di calciopoli però si schierò totalmente a favore della juventus io le cose non le dimentico per questo l'ho sempre seguito con grande affetto e devo dire le sue squadre vorrei sempre che si salvassero perché lui è bravo è bravo e non ha avuto la fortuna che merita però contro la juventus c'è un culo rotto così sono tre anni tre anni di seguito tre campionati di seguito che la juventus non riesce a batterlo tre anni fa due a due con la salernitana ricordate all'ultimo minuto il l'ultimo tempo scaduto il gol dell'unata milic quel fuorigioco inesistente perché poi vanno al var annullano il gol mentre c'è cantraeva che tiene in gioco milic babù l'anno scorso 27 gennaio o meglio quest'anno qua che poi l'anno scorso calcistico uno a uno con l'empoli in casa fu la partita della distruzione da quel momento in poi se la juventus avesse indo quella partita sarebbe andata al di sopra della non iscrivibile e invece pareggio in casa dopo pochi minuti milic sempre lui quando c'è nicola c'è milic oggi ieri non c'era perché praticamente è infortunato si fa espellere poi sempre con situazioni vantaggiose prima il 2 a 2 con la salernitana con un gol annullato da non annullare storico no l'anno scorso addirittura si inventò baldanzi che pareggiò dopo il gol di vlavic a dieci uomini nella juventus e quest'anno o meglio questo campionato sempre a torino riesce a pareggiare uno a uno con il cagliari saranno diciamo chissà che cosa ma nicola riesce sempre a pareggiare con la juventus alla cabala a favore l'anno scorso quando abbiamo vinto il 3 settembre ad empoli sulla panchina dell'emperi c'era zanetti quindi però le ultime tre partite di nicola a torino e appareggiare tutte e tre con tre squadre diverse mercoledì scorso contro l'ipsia in coppa dei campioni in champions league in europa in champions league in coppa dei campioni fagioli fa una prestazione eccezionale soprattutto nel secondo tempo leggi la formazione che deve affrontare il cagliari non c'è fagioli ma noi a che gioco stiamo giocando ma siamo noi che non comprendiamo niente non sappiamo niente o qui c'è una situazione tutta particolare non si capisce di cosa stiamo parlando fra poco parleremo dei danni che l'arbitro ha fatto da juventus danni incommesurabili poi nel prossimo video parleremo anche dei favori che stanno facendo agli altri bene comincia la partita e non gioca fagioli gioca locatelli locatelli il più scarso quello che ti abbassa la qualità del gioco quello che ti abbassa il rendimento della squadra tanto è vero sarà un caso non sarà un caso ma nell'ultimo partita di campionato 0-3 fuori casa locatelli non è stato schierato la juventus ha vinto all'ipsia locatelli non è stato schierato la juventus ha vinto dice ma aveva vinto pure con il psv e con como e verona sicuramente sicuramente ma dopo tre pareggi consecutivi non lo metti più e vinci vai fuori casa in champions league non lo metti e vinci poi che fai vieni in casa togli il migliori uno dei migliori in campo della champions league e metti locatelli e non vinci in campionato ma allora ma perché si abbassa la qualità cioè diventa prevedibile la juventus si perde tempo la manovra dal basso non la riesce a fare fluida con locatelli in campo ma non li capisce Tiago Motta ste cose ma gliele dobbiamo dire noi la juventus ha fatto a mio modesto parere una buona partita una partita dove ha sbagliato tanti gol quindi ha creato molto dove spesso si è specchiata su se stessa ma diciamo ha fatto una buona partita nella misura in cui ha giocato meglio del Cagliari ha perso però tempo nel copioso fraseggio nella continuità di retropassaggi e nella mancanza di fluidità della manovra per la presenza di locatelli tutto questo ha fatto perdere tempo e la juventus non riesce a fare tante palle gol ne fa poche perché perde tempo nella propria metà campo me lo voglio fregare che tieni la maggior parte e percentuale di possesso palla quando poi non riesci a fare occasioni gol questo deve far riflettere deve far riflettere tantissimo perché se la partita non la chiudi questo è un concetto che vi sto dicendo e spero lo diciate se non pareggi se non raddoppi e porti la squadra a 5 minuti dalla fine con il punteggio in bilico il sistema ti punisce basta un contatto in aria che non c'è rigore e ti dà il rigore contro è palese quello non è mai rigore mai non esiste proprio quel calcio di rigore ma questo arbitro è stato delinquenziale ancora una volta perché poi perché poi con la Roma quello gli dà la testata a e vi dico solo degli episodi così sommari la testata a gatti non viene espulso con il Napoli Politano entra sulla tibia di un avversario di uno juventino e non c'è l'espulsione retropassaggio al portiere in aria e doveri fa il suo dovere non fischia perché così gli è stato detto e pilota la partita dove ti danno il rigore successivamente a Marassi lo segni dai fallo di mano ma nel primo tempo non mettono fuori il giocatore della squadra di casa che invece meritava l'espulsione come ben sapete tanto è vero che in Inter Torino la stessa cosa è stato espulso il calciatore ma quando sono contro la Juventus non vengono mai espulsi contro il Genova questo arbitro questo arbitro ne combina di tutti i colori di tutti i colori dal primo minuto del secondo tempo per circa 20 minuti non fischia un calcio di punizione alla Juventus c'è la partita registrata andatevelo a vedere cambia totalmente lo scenario cosa succede tra il primo e il secondo tempo cosa succede sono chiaramente pilotati sono totalmente pilotati lui era stato chiamato al VAR per non aver visto un fallo di mano in aria non l'aveva visto chissà perché non l'aveva visto quel fallo di mano così lo chiama il VAR perché è troppo evidente no? e danno il rigore poi la Juventus sbaglia due gol fatti perché la Juventus la partita la pareggia lì dopo l'1-0 in un quarto d'ora tiene due volte il pallone del 2-0 c'è la Cup Mainers sui piedi una volta la tira alta aveva tutta la porta davanti un'altra volta bellissimo l'assist di Ravic ma nessuno se lo ricorda davanti al portiere gliela tira addosso immaginate se quei due gol li avesse sbagliati Vlaovic poi lo sbaglia nel secondo tempo e quindi per il gol sbagliato nel secondo tempo apre Ticilo il pareggio è colpa dell'errore di Vlaovic perché poi questa è diciamo la narrazione che vi fanno e poi vi spiego anche perché perché coinvolge anche il consensato che è vi sto dicendo da tempo il migliore acquisto della Juventus lo sto dicendo dal primo giorno in cui è arrivato anzi da quando ancora doveva arrivare subito dopo l'1-0 la Juventus sbaglia due gol che occupa Maers la può chiudere ma c'è un altro calcio di rigore un fallo di mano in aria con la mano ma l'arbitro non lo fischia quindi primo rigore non ha segnato la Juventus per fallo di mano te ne avevano dato già uno prima figurate se te ne danno un altro poi nel secondo tempo ancora Vlaovic strepitoso in un passaggio verso il centro per la corrente Savona spinto alle spalle Savona calcio di rigore per la Juventus ma non te lo dà all'arbitro eh ma non è vero non ve l'hanno fatto vedere sono scomparse le immagini guarda un po' sono scomparse le immagini e sono già due rigori che non ti hanno dato poi ti dai rigore contro non è mai rigore mai è proprio così uno scontro non è mai rigore perché o è fallo di Douglas Lewis o è fallo dell'attaccante sfondamento una delle due quindi non si dà mai quel rigore non esiste proprio però l'arbitro che non aveva dato il rigore perché si era reso conto che non era rigore viene richiamato al VAR il messaggio è chiaro il segnale della Marotta League è chiaro gliel'avranno detto e a due minuti infatti era molto indeciso l'arbitro l'arbitro era molto indeciso se vedete le immagini ma la pressione è stata talmente tanta da dare quel calcio di rigore perché poi anche Marelli insisteva come mai Marelli subito gli hanno dato la parola è rigore è rigore è rigore Marelli andatevi a risentire quello che ha detto danno il rigore lo segna Consensau scatta in avanti arriva in area di rigore viene spinto viene schiacciato dall'avversario va giù ammunizione era stato già ammunito rosso a casa tre rigori non assegnati alla Juventus non ve li faranno vedere mai è stata una partita pilotata è stato un furto dell'arbitro non del Cagliari perché il Cagliari che colpa ha è stata una vergogna assoluta ma poi avete visto con quanta rabbia è andato sul Consensau proprio a dimostrare guarda che io sto a sentire al sistema sto a sentire a quelli che mi dicono che la Juventus non deve vincere gli dà addirittura il rosso altro che non c'era rigore queste cose gli altri non ve le dicono tipo Pedullà non ve le dirà mai Pedullà vi ha detto non c'era il rigore ma non c'era l'espulsione la democrazia cristiana quindi tre rigori inondati Nicola è fortunato con la Juventus molto fortunato direi perché guida squadrette che vengono a Torino giocano anche bene perché le squadre di Nicola giocano bene ma sono fortunati con il VAR guarda un po' sono molto fortunati con il VAR poi c'è la questione Marelli che è una questione gravissima io ho ascoltato tante persone che mi hanno scritto sia su Facebook sia su in privato qualcuno in privato i quali mi dicono che hanno disdetto per colpa di Marelli hanno disdetto Dazzon io credo che Dazzon da ieri sera sta subendo molte disdette innanzitutto perché è palese il sistema non vuole far vincere lo scudetto la Juventus e allora perché il tifoso bianconero deve tenere Dazzon quando sa benissimo che non ha nessuna speranza per vincere il campionato è troppo palese no? quindi Marelli è un problema e le disdette sono realtà Marelli perché poi ci mette astio ci mette impeto contro la Juventus vabbè sarà un anti-Juventino anche lui anche lui pilotato del sistema lo sappiamo bene però è uno che incide perché io vorrei capire quando viene chiamato Marelli se c'è qualcuno che sente nella salavar io non so se c'è qualche collegamento non lo so non lo so che tipo di inciuci fanno nella Marotta l'arbitro non è all'altezza perché se è all'altezza è un venduto è un corrotto quindi non è all'altezza diciamo così perché quello che ha fatto è di una gravità enorme è gravissimo l'atto l'atto sul consensato è gravissimo gravissimo anche perché lo aveva munito forse c'era anche un po' l'ammunizione al primo fallo il ragazzo è rimasto esterefatto questo arbitro va allontanato ma è un arbitro incline al sistema è un arbitro manovrabile chiaramente no se ti ha fatto questa partizia ti ha pilotato questa partita in questo modo figuriamoci un po' e ora veniamo a parlare di un altro aspetto un altro aspetto di cui i tifosi della Juventus non si rendono conto ma ve lo sto dicendo da tempo il racconto è che la Juventus ha pareggiato perché Vlaovic ha sbagliato il gol ed è un racconto inerente alla realtà è vero detto così in sintesi è reale tuttavia va chiarito un altro aspetto sarebbe stato più giusto dire la Juventus non ha vinto per gli errori di Kupemainers il primo tempo che non ha chiuso la partita degli errori dell'arbitro che l'ha pilotata contro per gli errori di formazione di Tiago Motta e invece no si prende soltanto l'errore di Vlaovic perché essendo uno dei giocatori più forti del mondo perché Vlaovic è uno dei giocatori più forti del mondo il sistema italiano te lo infanga e i tifosi della Juventus ci cadono Gatti si vedeva subito che era tra i giocatori più bravi che stavano crescendo in maniera esponenziale però il sistema il picchiatore il picchiatore Gatti il picchiatore il picchiatore il picchiatore Consenzao adesso lo fanno passare come il simulatore internazionale perché è il più bravo della Juventus adesso vedrete l'ironia che si farà su Consenzao vi faccio vedere quindi e i tifosi della Juventus ci cadranno dentro perché i tifosi della Juventus non sono capaci di reagire dicono ma noi siamo la Juventus stanno sul piedistallo non c'entra ti stanno trascinando da anni ormai con gli errori arbitrali contro in un vortice da dove non riusciamo più ad uscire e poi dopo la partita ti dicono avete rubato tanto parlate proprio voi sempre la solita cosa sempre la solita pappardella e con questo modo di fare ce lo mettono a quel posto e invece non è così noi lo sappiamo bene vogliamo fare i superiori no ma qua superiori gli altri tifosi li devi trattare come vanno trattati e non sono soltanto i ratti che poi sono i primi ad uscire i ratti dalle fogne i pignoratti sono i primi ad uscire quindi io guardo un giocatore della Juve rispetto a quello che mi dice il sistema quando uscì del Piero era il giocatore più fuori del mondo e grazie ai suoi gol la Juventus vinceva coppe coppe internazionale super coppe vinceva di tutto e di più grazie a Del Piero che era il più forte giocatore del mondo in senso assoluto in quel momento ma non gli davano il pallone d'oro in nazionale non lo facevano andare gli creavano sempre il dualismo lo chiamavano drogato dopato lo chiamavano omosessuale e su Del Piero ne dicevano di tutti i colori quando Del Piero era una persona integerima ed era un ragazzo strepitoso io i giocatori della Juventus li valuto rispetto a quello che mi dicono i fangaioli non so se ho reso l'idea spero di aver reso l'idea quando un giocatore della Juventus fa la differenza il sistema te lo infanga quadrato è diventato il più grande simulatore d'Europa poi subito gli etichettano vi faccio vedere con consensato come Marelli ha detto che era un simulatore gli ha gli ha detto di tutti i colori a quel ragazzo dal viso pulito dal dribbling eccezionale ma l'ho già bollato come un simulatore vedete che danno ha fatto anche intellettuale e filosofico l'arbitro chiamando quella simulazione non su simulazione chissà da quanti anni non si ammonisce per simulazione perché se c'è il VAR non c'è la simulazione no perché te ne accorgi poi ritengo e chiudo che la Juventus non è al primo posto per effetto degli errori degli arbitri e del VAR perché nonostante tutto la squadra che ha subito un solo golo peraltro sul rigore in tutto il campionato dopo sette partite non si trova al primo posto solo ed esclusivamente per gli errori arbitrali contro io non li ritengo errori li ritengo invece modi di pilotare le partite contro la Juventus per cui nonostante tutto quello che ci stanno dicendo e tutto quello che si stiamo vedendo per quanto mi riguarda la Juventus non è al primo posto per che gli arbitri stanno portando avanti il VAR un canovaccio contro la Juventus e quando vi dico che Rocchi è il problema è un problema serio perché il braccio armato del sistema gli hanno dato 500 mila euro per fare queste porcherie gli hanno dato 500 mila euro e se li deve guadagnare ste 500 mila euro e allora se il sistema pilota in questo modo e in questi giorni stiamo vedendo che i capi ultras arrestati a Milano prendono il telefono e chiamano a Gravina o meglio lo vanno a trovare di persona e fanno le riunioni con Gravina come emerge dalle intercettazioni allora voi che cosa pensate? Che cosa pensate? Quello che penso io è che nel campionato italiano c'è una probabile infiltrazione maravitosa perché si puntano anche le scommesse non lo dimenticate mai e soprattutto perché la Juventus non deve vincere ha vinto troppo per il momento mi fermo qui mi invito ad iscrivervi al mio canale youtube Sergio Vessicchio ad attivare la campanella delle notifiche e a mettere un like se lo ritenete opportuno poi successivamente parleremo ancora della situazione gravissima della giustizia sportiva a proposito della non iscrivibile perché ci sono dei regolamenti chiari alla prossima a proposito